Bambini, chi è il più piccolo? Quanti anni hai? Sonia, quanti anni hai? 5 5, quindi apparemo Elella, quanti anni hai? 5, Gioele? 5, tutti e mezzo, scusa 5 e mezzo, attenzione Va bene, allora ci presenteranno due brani Eh sì, eh, due assaggi, eh proprio Due assaggi, uno si intitola Danza di Primavera Esatto E l'altro per i più piccoli che conoscono tutti Perché Rai, io, io Lo conosci anche te, allora 24 ore su 24, io ho visto tutte le puntate Il cartone animato più inutile della storia Lasciatelo dire No, però è bellissimo, il cartone animato Ma conoscete mica Peppa Pig? È più famoso del Papa, questo cartone animato Io sono un ripetente, ma ci sto anch'io Aspetta che i telefoni Vi vedo che vai vasto Vedo che vai vasto Pulo, pilo, 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 pilo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti